Ciao ragazze, sono tornata con un altro video, questo sarà un video davvero veloce, era solo per darmi una dritta Stamattina sono andata in edicola, anche perché avevo già visto il video di Sweet Princess 93, se non sbaglio E sono andata ad acquistare MySelf, che questo mese in edicola esce con il sample dell'Inimitable Intense di Chanel Ne ho acquistati due di giornali, infatti ho due campioncini del mascara Chanel che ho anche indosso, mi piace molto Chanel è sempre Chanel, come possiamo dire E vi faccio vedere il campioncino Se riesco a cacciarlo fuori E' davvero piccolissimo, molto molto piccolo Eccolo qui Ed è 1 ml Sì, 1 ml E questo qui è un mascara che dà volume, lunghezza e curvatura Ad effetto separatore Non so se si può leggere, eccolo qui Questo è il packaging, la confezione del mascara della Chanel Se ne trovate più di due come me acquistatelo Anche perché costa soltanto un euro, se non sbaglio Sì Un euro anziché due E poi c'è, come potete vedere Tutto Insomma, questo qui L'effetto è davvero Come quello che fa vedere nell'immagine E' davvero molto buono come mascara Quindi se trovate tipo 10 myself Compratelo Almeno vi fate 10 ml del mascara Chanel Sono i 10 euro Posso vedere se riesco l'effetto Vedete? Molto molto bello Non fa grumi Ha un bellissimo nero Quindi ve lo straconsiglio E niente ragazze Io Aspettate Che avete il mio faccione Niente ragazze Io Vi mando un bacio Ho voluto fare questo video Prestissimo In modo tale che potete trovare la rivista in edicola E E niente Vi mando un forte bacio E buonanotte Perché è mezzanotte e mezza Quindi Ciao ragazze Buonanotte